Sette punti per spiegare la legge di stabilità della regione Campania per il 2016. Zero clientele, zero enti inutili. Il testo prevede la soppressione dell'ARLAS, l'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione. È prevista la riorganizzazione invece dell'Agenzia regionale per il turismo e beni culturali, concessione o dismissione delle partecipazioni in società, enti, fondazioni ed organismi, il cui scopo è la promozione del turismo, così da non avere più doppioni. Ma zero anche burocrazia, efficienza e risparmio. Vengono soppresse commissioni, comitati, osservatori, gruppi di lavoro presenti nelle strutture regionali. Viene stabilito il conferimento dei risparmi di spesa nel fondo Edoardo e Luca De Filippo per le politiche giovani e il contrasto alla criminalità giovanile. È inoltre prevista la razionalizzazione del patrimonio immobiliare regionale, riduzione sprechi, stop, affitti inutili. La regione, gli enti strumentali regionali e le società in house attuano un piano di razionalizzazione logistica dei propri uffici che consentirà un risparmio di un milione di euro. Fondi per il trasporto pubblico gratuito per gli studenti, borse di studio, fondo per i beni confiscati, più risorse alla cultura. Per il sostegno al diritto allo studio è previsto lo stanziamento di 15 milioni e mezzo di euro annui da parte della regione per il prossimo triennio per il trasporto scolastico gratuito degli studenti. Gli abbonamenti saranno disponibili a partire dal prossimo anno scolastico e ne beneficeranno tutti gli studenti il cui reddito familiare sia inferiore a 100 mila euro per coprire il tragitto che separa la casa di residenza alla scuola università dei ragazzi, mentre le borse di studio saranno erogate a tutti gli aventi diritto secondo i criteri previsti dalla normativa nazionale. In campo sociale e sociosanitario viene istituito un fondo per i beni confiscati per un ammontare di 250 mila euro per tre anni, un sostegno di 3 milioni di euro per il villaggio dei ragazzi di Maddaloni in provincia di Caserta, tanto per intenderci. E per rimanere in tema, tra i fondi per la cultura destinati ai teatri di massima espressione campana, San Carlo e Teatro Verdi premiati con un milione e mezzo di euro annui per tre anni, c'è spazio anche per uno stanziamento di un milione di euro per i beni culturali di Caserta, provvedimento evidentemente sfuggito al consigliere Grimaldi, particolarmente attento ai provvedimenti finanziari che premiano Salerno, mentre giova a ricordare che il premio di design intitolato a Vignelli, 250 mila euro, è ovviamente steso a tutti i designer campani e non solo salernitani. Nella legge di stabilità approvata tardasera dal Consiglio regionale c'è anche la proroga del piano casa fino al 2017, proroga della possibilità per i comuni di lavorare le pratiche dei vecchi condoni ancora in istruttoria relativi alle leggi dell'85-94, proposte queste suggerite dal centro-destra.